ciao a tutti non più alla todos oggi come noterete in questo video non c'è con me pedro questo sarebbe sarà l'ultimo video del nostro canale non so ancora come dirvelo perché è stato tutto fatto troppo in fretta neanche avuto il tempo di ragionare ho preso la videocamera e iniziato a girare ho detto a mia mamma che dovevo portarmi avanti con altri video per youtube e quindi si lei non sa niente di niente di questa storia che vi dirò sono qua per dirvi che questo video sta all'ultimo del nostro canale e non da questo abbiamo la video dai io sto anzio non c'era l'inzio Sèiii! Neeeeee! Neeeeee! Betanje! Scusate! Che sei della mamma? Vabbè non scherzo! Ciao mamma! Scusate!